Emilio De Marchi, il cappello del prete. Assieme alla mano nera di Cleto Arrighi del 1883, il cappello del prete di Emilio De Marchi è il primo esempio di romanzo italiano, per citare una frase di Maurizio Pistilli. Non è che sino ad allora non c'erano stati esempi e produzioni di questo tipo, pensiamo a Un nome su tutti, alle produzioni di Iarro, ma queste erano più dei romanzi d'appendice, dei romanzi quindi scritti in due notti per assecondare il gusto dei lettori che volevano leggere di sangue, di crimini, di criminali. Quindi con questo romanzo di Emilio De Marchi abbiamo uno scatto in avanti. È la prima volta che un vero scrittore, uno scrittore di spessore, si cimenta con questi contenuti e cercherà di creare un vero e proprio genere letterario. Oltre a Alpe c'erano già stati esempi del genere, si era già sviluppato questo genere letterario, pensiamo soprattutto in Francia. Da noi invece in Italia questo genere letterario era piuttosto snobbato. In fin dei conti noi siamo la patria di Dante, di Boccaccio, di Petrarca, di Leopardi. La trama. Il protagonista è il barone di Santa Fusca, ma soprattutto il protagonista è il dubbio, il rimorso, le incertezze, tutti questi sentimenti che arrivano a mordere l'anima di questo barone di Santa Fusca dopo che per impossessarsi dei soldi ha ucciso un prete, prete Cirillo. Perché dovremmo leggere questo romanzo? Per quattro motivi fondamentalmente. Il primo innanzitutto perché è di uno scrittore italiano e vale la pena di riscoprirlo perché questo romanzo è scritto veramente bene. Secondo motivo perché scritto un po' per scommessa, come disse e dice lo stesso De Marchi nella prefazione, accolto molto favorevolmente sia dalla critica che dal pubblico, non è propriamente un romanzo poliziesco, anche perché le indagini e il giudice che conduce queste indagini emergeranno solamente verso la fine del romanzo. Ma lo si può definire come un suo sottogenere, un noir. Terzo motivo perché è stato scritto questo noir molti anni prima della nascita di Simenon, che per molti è l'essenza stessa del noir, ma in questo caso Emilio De Marchi non ha nulla da invidiare a questo grande scrittore. Quarto motivo perché non si può leggere questo romanzo senza paragonarlo istintivamente ad un altro classico, anche questo pubblicato negli stessi anni, Delitto e Castigo di Dostoevsky. Ma c'è una differenza, mentre nel romanzo Delitto e Castigo il protagonista riesce a salvarsi grazie all'espiazione del reato e del peccato, grazie alla fede, alla riscoperta fede e all'amore, in questo romanzo per il protagonista non c'è nessuna espiazione e non diciamo null'altro per non svelare la trama. Come mai? Un indizio. La cieca fede nella scienza che nel barone di Santa Fusca ha plasmato anche la sua coscienza e che non riesce quindi a conciliare i suoi pensieri con gli ansiti della sua anima più profonda. Grazie a tutti.